. Simona Ventura e Stefano Bettarini insieme, lei lancia un appello . . Stefano Bettarini insieme a Simona Ventura per il compleanno del figlio, la foto. Simona Ventura ha caricato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram una foto insieme a Stefano Bettarini e al loro figlio Nicolo. . Inoltre nella didascalia dellimmagine, le ex conduttrice di Selfie e le cose cambiano ha scritto questa frase che è stata letta dai suoi fan come un appello rivolto a tutti i genitori separati. . Bisogna parlare sempre. Buon compleanno Nic. Cancelletto Happy Birthday dai 19. Il giovane Bettarini compie infatti oggi gli anni, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che la famiglia si sarebbe riunita per festeggiare insieme. . Infatti, sia la Ventura che Stefano non si erano quasi mai calcolati durante questa calda estate, nonostante i loro rapporti fossero comunque tornati sereni. . L'ex inviato dell'Isola dei Famosi d'altronde era stato molto impegnato, trascorrendo tutta la sua pausa estiva insieme alla sua nuova compagna Nicoletta Larini. . . Simona invece si era divisa tra Londra e la Sardegna, nel primo luogo insieme ai figli, nel secondo insieme al suo fidanzato Gero. . Insomma, i due ex non si erano mai visti, e quindi la recente unione della famiglia ha entusiasmato non poco i followers della coppia. Simona Ventura festeggia con Stefano Bettarini, l'appello della conduttrice. . Simona Ventura inoltre ha anticipato la festa del giovane Bettarini pubblicando sulle sue Instagram Stories una tenera foto in cui è apparsa raggiante decisamente più giovane con in braccio il piccolo Nicolò, i due oggi come ad allora sono molto uniti e lo hanno dimostrato nuovamente. . . Quali saranno i piani dei due ex coniugi per celebrare il compleanno del figlio? Ancora nessuno dei due ha anticipato nulla su social, ma quasi sicuramente non andranno a mangiare giapponese, nonostante la bionda conduttrice sia molto golosa della cucina asiatica. . 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